Il PNRR in Sardegna, lentezze e speranze. Nel dibattito promosso ieri dalla Fondazione Segni si è fatto il punto sul piano, il cui scopo è risolevare le sorti economiche post-pandemiche del Paese. Quasi 5 miliardi per l'isola in fase di investimento. Il PNRR è concentrato soprattutto sugli investimenti, quindi investimenti in conto capitale, molto meno per quanto riguarda la spesa corrente. Il moltiplicatore del PIL può essere considerato sostanziale e anche significativo. Si aggira intorno a 1,4 che significa che per ogni euro che verrà speso all'interno del territorio regionale il PIL reagirà con una crescita di 1,4 euro. Molti gli esperti presenti nella sede della Fondazione di Sardegna che hanno sottolineato i ritardi nell'attuazione del programma anche dovuti alla rimodulazione del governo Meloni e alla ricerca di nuove coperture. Anche questo presenta certamente delle complessità, ha dei tempi tecnici, ma gli interventi che sono già stati attivati in qualche modo troveranno copertura in altre risorse finanziarie nazionali o di fonte comunitaria. Il contributo alla chance del Piano Nazionale di ripresa e residenza viene anche dalle banche. Intesa San Paolo ha aggiunto nell'arco del piano altri 410 miliardi per accompagnare le imprese, tra cui 2,4 miliardi dedicate proprio all'isola della Sardegna. In generale la sensazione è di un'occasione che si fatica a cogliere anche in Sardegna, ma proprio l'isola potrebbe però avere un vantaggio. Dal punto di vista dell'attuazione la Sardegna ha un vantaggio perché ho visto che il grosso dei finanziamenti sono concentrati tra pochi soggetti attuatori e questo dovrebbe essere una semigaranzia.